Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Su Instagram le disastrose conseguenze dell'intervento cosmetico a base di Botox a cui si è sottoposta qualche giorno fa. Un risultato a dir poco disastroso, visto che ora l'influencer si ritrova con un volto come un palloncino. Sui social, la 33enne si è ritrovata con terribili segni sotto i suoi occhi e intorno al suo viso, che ormai appare sfigurato. L'influencer rossa Oksana Ousepian ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per migliorare il suo sguardo e la sua pelle, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. Ha scattato una foto dei suoi occhi e delle sue sopracciglia, è andata su Instagram e si è infuriata con il chirurgo che ha eseguito l'operazione che le ha lasciato il viso come un palloncino. Oksana Ousepian ha anche affermato di non poter più muovere la fronte dopo l'operazione che l'ha fatta cadere in depressione. Mi sono fidata della professionista e lei ha incasinato tutto. La mia faccia è come un palloncino. Dovrei andare a trovare i miei genitori e loro mi vedranno in questo stato. Come posso affrontare loro così?